Ciao a tutti ragazzi, io sono Emanuele e io sono Eugenio e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Allora ragazzi vi spiego un po' quello che faremo, praticamente sarà... Ah intanto dove andiamo? Andiamo a Parco Vodifico, vai a sinistra a sinistra. Vai 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 andiamo andiamo. Praticamente vi spiego quello che faremo oggi, in pratica faremo una challenge molto difficile ve lo dico, in cui in pratica dovremmo giocare usando solamente il loot degli avversari che uccidiamo, quindi usando soltanto le cose che hanno gli avversari. Ovviamente all'inizio dovremmo armarci con le cose che troviamo, poi una volta che se riusciamo a ucciderne uno, una volta che non uccidiamo uno, sostituiamo le armi che abbiamo noi con quelle che ha lui. Io sto molto male Emanuele. Come? Che mi ha sfiorato uno, mi ha sfiorato uno, niente niente. Vai Emanuele. Emanuele che te la porti in faccia. Ok ho trovato un tattico. E a me non me la... Dai dai dai. Ti ricordo mio caro Emanuele che non appena ne troviamo un nemico lo dobbiamo uccidere. E una volta che lo uccidiamo Emanuele ha soltanto un tattico. Allora. Io vado a... Sparano. Aspetta qui sotto c'è qualcosa sicuro. Aia, aia, aia. Ok cassa. Oh mi vuole dare qualcosa a me. E qui c'è un tattico per te Manu. C'è un tattico qua. Vai te lo vengo a portare. Vieni a fare le cure con me, lo slurp, lo slurp. Emanuele. Pronto? Vi ricordo ragazzi che io sono aspetta questo. Manuale. Che? Vi ricordo ragazzi che io sono Minecraft player. Mentre Emanuele è appunto quello che vedete voi, che vedete alla sua visuale. Dai Manuale, se ne uccidiamo uno, Manuale. Ok, davanti a me. Aspetta, aspetta, aspetta. Dove sei, dove sei. Vieni qua, davanti a me. Stavo a prenderli. Ok, è atterrato Manuale, dobbiamo prenderli. È qui. Dobbiamo prenderli il suo loot, mi dispiace. Ok. Ah ragazzi, se poi non ha niente significa che dobbiamo tenerci il nostro loot, eh? Eh, invece no, ce l'aveva, quindi. Aveva una, R bianco. Manuale, devo togliere. Non prendere le cose che prendo io, ok? È una pistoletta. Ok, prendi, ok. Tu tieniti il tuo loot perché questo l'ho ucciso, l'ho ucciso io, capito? Sì, sì. Allora. Come volete rivedere, ragazzi, ho preso il suo loot. E ho lasciato il mio e il mio, devo dire che era più forte. Ecco, c'è una, c'è una, c'è una, c'è una. Dove, 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 dove? 8, 12, 10. Ah, l'atterrato, l'atterrato. Bravo, uccidilo, uccidilo. Ecco, devi togliere tutto quello che è nell'inventario e prendere quello che ha lui. Ok, aspetta. Allora, no, non è questo. Devo. Rilascia. Boom. E devo prendere. Vabbè, i lingotti mi servono. Era meglio quello tu o quello del tuo avversario, Emanuele? Beh, devo dire che quello dell'avversario era meglio. Ok, direi di andare in safe, Emanuele. Dai, dai, andiamo in safe. Io c'è tanti materiali, almeno per quanto sono in giocatori. Ok, c'è una macchina qui, vieni, please. Aspetta che la pingo. Ah, ma dove sta? Qua, qua, qua. Eh, scusa, venga di male. Vai, allora, dimmi se vedi qualche nemico, eh? Sì. Oh, c'è una macchina davanti, vai, scambiamoci. Oddio. Oh, ma no, no. Vai, ammazziamo, ammazziamo, ammazziamolo. È davanti a me. Perfetto, ti l'ha ucciso? Lei ha ucciso tu, prendi il suo lutto, prendi il suo lutto. Sì, sì, aspetta, amore, lascia il mio, però. Eh, certo. Mi sono arrabbiata. Sono infuriata, uccidete. Cattivo, manuè, cattivo. Cattivo, cattivo. Vai, vai, sta macchina. Andiamo a sta macchina. Oh, c'è una, c'è una. Dove, aspetta, un'esercizio. Bravo, ok, dai, prendi il suo lutto, prendi il suo lutto. Eh, non devi prendere niente. Però non possiamo, non possiamo prendere l'oro e il rai. No, dai, oh, era mio. Eh, scusa, manuè, quel medikit non puoi prenderli. Manuè, puoi dare munizioni nel fucile d'assalto, per favore? Vabbè, no, a questo punto ti do un'altra fucile d'assalto. Vabbè, grazie. Un po' di più gli ettini. Lo dai? Yes. Manuè, entro oggi, però, grazie. Entro oggi. Grazie, signore. Ma lei ce l'ha un fucile d'assalto? Sì. Ah, ok, va bene. Grazie per la R. Dimmi se c'è gente, eh. Ah, lui c'è la cassa, aspetta, la cassa, le casse le possiamo prendere, eh? Sì, sì. Però, non, però, sì, possiamo prendere inutile le casse, no? Sì. Sì, è oggi è morti, mi sta rivolando in pesa. Aspetta, ok, perfetto. Vai, corri, 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 corri. Ma, oh, è vero. Ma, no, no. Ma non c'è la potente? No, no. C'è, credo, ho nove anni, grazie. Ne hai presa la topolino la potente. Vai, avanti, avanti. Ok, hai un po' di calma, finalmente. Perfetto, perfetto. Guida io, eh. Eh, vabbè, cerca di non farci schiantare, grazie. Prego, prego. Vabbè, prendo un po' di materiale, aspetta. Ok. Pure i proiettili? I proiettili? Come i proiettili? I proiettili che stanno qui. No, non puoi prendere, puoi prendere tanto le cose dei nemici. E pure i materiali? No, niente, non puoi prendere niente. Ah. Dai, mi doi il manuale. No, spesso, per sbaglio, ho preso 65, però, dai. No, non puoi prendere i miei capelli, non so. Ok, questo non possiamo... Dove, dove? Eh, sì, sì, dobbiamo prendere il loot. 31, 31. Bravo, l'hai uscito tuve? Cisito, cisito. Eh, vabbè, praticamente mi hai fregato una kill. Vai, prendi, devi togli... Eh, Manuel, mi sa che non va bene questa cosa. Però c'ho gli scildini, c'ho gli scildini almeno. E devi togliere quello che hai, che hai, Manuel. No, gli scildini non ce l'ho io. Eh, prendili, è di sto tizio. Ah, intanto devo togliere quello che ho io. Eh, appunto. One, two, three. E prendi quello. Prendo tutto? Sì. Mi dobbiamo, ok. Lei c'è, lì ci stanno due. Stanno fa uno più uno, mi sa. Eh, lo vedo. E lì c'è neanche un altro nel fortino, Manuel. Andiamo alla festa? No, ci sta il mandaloriano. Oh! Dove, dove, dove? Non lo so. Ecco, mi sa che l'ha visto. Manuel, non facciamo più duracce. Oh, 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 oh. Ok, no, mannaggia, non... Scusate. Bravo. Mannaggia, me le stai a frega tutte le kill, Manuel. Oh, mi dai sto scelto, non lo devo poi prendi tu soltanto. No, ecco, tieni, tieni, tieni. No, vabbè. Vabbè. Vabbè, comunque è il lucro. Oh, devi putta tutto quello che hai. No, me non l'ho ucciso, gliel'hai ucciso tu. Ah. Facciamo che sto scelto, vabbè, me l'avresti dato comunque, quindi. Cioè, veramente me l'ha fregata la kill, però, vabbè. Sai com'è? Ok. Ok, posso prendere sto medikit, me lo puoi dare? Già, mi sto da tutto, però. Emanuele, io sto a morire. Ho 60 di vita. Vabbè. Ti scelto, non... Ho completato la Minecraft versione 2.20. Sti sceltini... Non so, del nemico, vabbè? Questi? Vabbè, per sicurezza non prendiamoli, dai. Quelli no, no, sono miei, erano miei. Eh, appunto. Oh, il c'è... La safe sta molto lontana, comunque. Oddio, spero di farcela. Lei c'è uno. Dov'è? No, quello che sta costruendo. Puoi pinga? Aspetta, dove sta? Eh, aspetta, io non... Ok. Aspetta. Ok, qui c'è qualcosa di bello, però non... In pratica sta andando là. No, non te ne frega, ma... Oh, mi ha aspirato a uno, mi ha aspirato. Manuale, non ti... Eh, lo vedo davanti a me, lì sotto. Vabbè, per ora non ci interessa, Manuale. Mi ha aspirato a uno. Eh, lo so. Aspetta, costruisco. Vieni, vai al ping. Vai al ping rosso. Dove sta? Manuale, ci stiamo vicino ai nemici, eh, te lo dico. Oh, dobbiamo ten safe. Eh, oddio, eh. Che brutta challenge. Eh, effettivamente fa molto male, sì, lo so. Eh, no. 100 spari? Eh, pure io, Manuale. Ok, sei botta, Manuale, scappa, 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 non te ne frega, questi... C'è la zipline, la zipline. Non è la zipline. Non è la zipline. Sbrigati. Vai, vai, vai. Sali sulla zipline. Certo. Ok, forse, forse siamo salvi dalla safe, eh. Forse, forse. Sì, sì. No. Ah, vabbè. Secondo me qualche danno lo prendiamo. Non lo so. Non lo so. Quello non lo bevo. Mi raccomando, Manuè, prendi soltanto le armi del nemico, eh. Sì. Ah, allora. I materiali si possono prendere, però adesso... Cioè, non... Cioè, vabbè. No, in realtà no, scusa, è sbagliato. Ah, perché... Beh, no, no, sì, i materiali si possono prendere, sì, sì, sì. Allora, prima... Però ottico mi viene di no, perché non possiamo perdere tempo, assolutamente. Sì, sì. Oh, sta arrivando... Sta arrivando in bestia, scusa. No, ma dovremmo farcela. Sì, ce la facciamo, se nessuno ci uccide prima di arrivare. Però è veloce. Il che è una cosa al quanto probabile... Oh, davanti a me! Aiutami, help me. Ma sì, ci sta arrivando. Help me. Manuè, non so bene dov'è. Ecco, davanti a me, davanti a me. Uge, 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 la safe, la safe. Ok, quasi morto. Non sarà. Potevamo muoverci. È morto, è morto, è morto, è morto. Dobbiamo muoverci. Lo so. Manuè, devo prendere il suo loot. Vabbè, è soltanto una mitraglietta, poi butta tutto il resto, non vi preoccupate, poi faccio pure vedere. Oh, ci stanno gli spagnacci. No, Manuè, manuè. Uge, no. Uge, no. Manuè, ok, si è fermata la tempesta. Manuè, guarda a me, guardami, guardami, guardami. Mi rimane soltanto, guarda, ma butta tutto quanto, eh. Butta, butta, subito, subito, subito. Questo è tutto quello che devo buttare, guarda che roba. Mi rimane, aspetta, mi rimane soltanto una mitraglietta. Soltanto una mitraglietta. E a me, io c'ho il tattico e la mitraglietta. Eh, si è messo un po' meglio. Però, di fino a 1977 discuto 14. Manuè, non so perché, ma qualcosa mi dice che morremo dalla safe. No, no, no. Ma aia, manuè, aia. Perché? Se ne colpi i tizi. Se ne colpi i tizi, sì. Se ne colpi i tizi, no, no. Io voglio che li rimuovano perché fanno troppo male. Pure io, pure io, pure io, cioè. Non prendi, oddio, sette giocatori, ma no, sei giocatori. In realtà quattro avversari, ma no, ma potremmo farcela. Eh, però... Oh, se riuscivamo a vincere con sto challenge pazzo, non lo so, boh. Allora. Non puoi prendere l'impulso, eh. No, no. Sento spari, però, da lontano. Ok, siamo in safe. Ufficialmente siamo in safe. Ok, ora prendiamo un po' di materiali perché i miei nemici stanno tutti qua. Cacchio, un bel po' grande è la safe per essere rimasti solo giù. Infatti mi sembra un po' di... Sono morte veloce moltissimo le persone. Sento una macchina, Manuel, mi sa. Io no. Senti, tu fai materiale. Ma c'è degli scendini qualcosa? No. C'è solo una mitraglietta, ma come si fa, cioè. Io ho tattico una mitraglietta, come ti ho detto prima. Tutti e due stiamo messi malissimo, no, Manuel? Mi sa che il fight finale... Oh, cioè, se riusciamo veramente a vincere, esploda. Ok, allora. Direi... Allora, prendiamo l'altezza perché l'altezza serve un sacco a Fortnite. Andiamo sulla cima di questa montagna? Sì. Il monte Everest. Mi sembra un obiettivo. Oh, non riesco a stare lì. Vuoi vedere che ci sblocca qualcosa e arriviamo... Mi sa che questo è il punto più alto della mappa, eh? Oddio, guarda qua. Monte F8 si chiama. Oh my God, no, Manuel. È spaziale, mamma mia. Ok, adesso è da qua. Ah, c'è pure una bandiera qui, che figo. Eh, l'ho distrutta, perché ora la bandiera è nostra, mi dispiace. Appunto. No, mannaggia, sto cadendo. Manuel, non prova a cascare da qui, che se no, veramente, sei finito, eh? Siamo finiti. Ci sta un'altra bandiera. Manuel, apri le orecchie, perché veramente qui... Mo' incontriamo i nemici, te lo dico. Oddio, lì sono scidomi dello scudone, o me lo vorrei un botto, ma non posso prenderlo. Ah, sta perciò una cassa qua sotto. Ah, non possiamo ancora prendere la cassa. No, no, no. No, la cassa non la possiamo prendere. Eh, appunto. Sento uno. No, non è sotto di noi, è sotto di noi. Ok. No, qui il cecchino, non io lo dico. Oh, aspetta. Lavo guardando qui. Oh. Chi è? Non lo so. Qui c'è qualcuno che sta spacca. Tre, due. No, cosa? Uno spacchiamo. Attento. Spacca. No, così cadi però, manuola, mettiti al bordo. No, manuola. No, no, no. Vabbè, fa niente. Aspetta, spacco io, eh. Non c'è qualcosa. No, perché no, è... Oh, oh, ti pareva, manuola, c'è quasi morto. Lo sapevo io. No, manuola, ecco. Chi è? Manuola, è da me. Manuola, si ho scivolato ai piedi della monta... No, manuola, è un casino. No, no, non ci credo. No, dai, terzi. Eh, vabbè. Vabbè. Ce l'abbiamo quasi fatta, Manuola. Buono, buono. Non potevo solo il tuo attico, però. Ragazzi, noi ci abbiamo provato e alla fine abbiamo dovuto arrendersi perché veramente avevano delle armi che più scatti non ci potevano. Da Eugenio ed Emanuele è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!